Da una parte posso cambiare la mia vita, o quasi, dall'altra tornare a casa e riprendere la vita di tutti i giorni così come l'ho lasciata. Ora come ora sono anche fortunato perché ho un lavoro. No, no, non mi manca niente. Qua è molto comodo però è che una volta la tentazione che ti andrà avanti. Oh io, oh io. Basta, è l'occasione della campagna. Ho giocato finora e continuo a giocare. Beh, fregati. Fidu. Cosa vuoi dire? Non lo so ancora. Però... Ringrazio dottore. Potrei pentirmene a dar sempre di questo, ma... Rifiuto l'offerta e vado a fare. Pazzo!